Non si ferma il fenomeno della violenza di genere anche nella provincia di Taranto. Nelle ultime ore è stato arrestato in fraganza di reato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia un uomo del posto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della compagna. Tutto sarebbe scaturito da un'ennesima lite tra la coppia, durante la quale l'uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con calce e pugni. Alla richiesta di aiuto al pronto intervento dei carabinieri 112 da parte della donna sono stati immediatamente inviati i carabinieri che giunti sul posto hanno trovato tracce di sangue sul pavimento e segni evidenti di violenza e sangue sul viso ed altre parti del corpo della donna per la quale è stato necessario l'intervento del personale del 118. L'uomo, secondo quanto dichiarato dalla donna, che ha rifiutato di rivolgersi al centro antiviolenza avrebbe da tempo assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi culminati con la presunta violenta aggressione al termine della quale sarebbe andata a dormire come se nulla fosse accaduto. Il cinquantenne, fatta salva alla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto alle arresti domiciliari. Sempre i militari dell'arma hanno arrestato un 39enne del posto presunto responsabile dei reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri nei giorni precedenti, mediante servizi di osservazione, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di uno snodo stradale nella periferia del capoluogo ionico. In particolare, alcuni giovani, dopo aver parcheggiato le loro auto, raggiungevano a piedi una palazzina poco distante per poi allontanarsi repentinamente in macchina. Gli investigatori hanno così deciso di bloccare il 39enne, dando seguito a una perquisizione personale e domiciliare all'interno della sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 40 grammi, nonché materiale per il taglio e il confezionamento della stessa. La sostanza stupefacente è stata inviata presso i laboratori di analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.